Ciao a tutti, oggi andiamo sul Mar Rosso e vediamo i tre motivi per cui devi assolutamente andarci. Risponderò poi alle domande più frequenti e spiegherò quali documenti servono. Se siamo pronti, mi presento, sono Antonia, consulente di viaggio online per Evolution Travel e specialista in meta dalle acque cristalline. Costruiremo insieme la tua vacanza ideale nel bacino del Mediterraneo, ai Caraibi o nell'Oceano Indiano. Oggi però, come dicevo, siamo sul Mar Rosso. Tre motivi per andarci almeno una volta nella vita. Il primo e il più importante è che quello che vedrai nel Mar Rosso lo troverai solo lì, perché c'è una barriera corallina e ci sono dei pesci che sono introvabili altrove nel mondo. Anche se non sai nuotare, non importa, perché si vedono anche da riva o dal pontile, come in questo caso, la foto l'ho scattata io e ero sul pontile del villaggio e non ho neanche dovuto mettere piede in acqua. Poi è evidente che se ami lo snorkeling o addirittura sei un subacqueo, gli spettacoli a cui puoi avere accesso aumentano esponenzialmente. Motivo numero due, per andare sul Mar Rosso, i costi. Una meta assolutamente accessibile da un punto di vista economico, per cui perché non farlo anche in considerazione del fatto che è un luogo unico. Motivo numero tre, la distanza. Sono quattro ore di volo dall'Italia, per cui insomma non è neanche un viaggio impegnativo e non c'è fuso orario. Si può andare tutto l'anno sul Mar Rosso? Sì. Il clima com'è? È secco, scarsissime precipitazioni, considera che è una destinazione che è stata costruita a tavolino, lì non c'era niente fino agli anni 70. La cosa è particolarmente evidente quando si arriva in aereo e si vede che lungo la costa ci sono questi grandi villaggi costruiti in prima e in seconda linea e dietro di essi il nulla assoluto del deserto del Sinei. Qui c'era questo splendido mare, è stata portata l'acqua, hanno iniziato a costruire il resort, è diventato un luogo di villeggiatura dove gli italiani sono storicamente presenti dagli inizi e continuano ad andare perché si sono affezionati tantissimo alla destinazione. Ad agosto è molto caldo? Sì, siamo nel deserto, le temperature massime toccano i 40 gradi, però è un caldo comunque secco e ventilato per cui si resiste. In inverno le temperature minime si toccano tra i mesi di dicembre e di gennaio, arriviamo a 23-24 gradi come temperature massime medie per cui la risposta alla domanda c'è caldo? Sì, caldo ma non caldone, nel senso non è il caldo che troveresti ai Caraibi nello stesso periodo o a Zanzibar, però sicuramente se vuoi passare un Natale o un Capodanno senza dover indossare il cappotto, spendendo sicuramente meno rispetto ad altre destinazioni lungo raggio, Charm, Marsalam, il Mar Rosso in generale possono essere destinazioni che fanno al caso tuo. Come si configura la vacanza tipo il soggiorno mare sul Mar Rosso come una vacanza da villaggio in 4-5 stelle all inclusive? Non si può noleggiare la macchina e prendere e andarsene da soli nel deserto del Sinai perché per prima cosa ci sono posti di blocco ogni 50 metri? Poi il turista da solo non ci può andare, è pericoloso e soprattutto cosa ci vai a fare visto che il panorama che ti aspetta è tipo questo? Ci si può andare in escursione per andare a vedere le tende beduine, farsi in giro sul cammello, bersi il tè nel deserto, far la motorata, certo ci sono un sacco di attività però organizzate, altrimenti si può prendere un taxi dal villaggio, andare in centro a Nama Bay, farsi un giro però sempre comunque accompagnati. Dicevo che i costi sono contenuti assolutamente sì, non andiamo a fare troppe economie perché qui la differenza fra lo stare bene e lo stare così così si gioca veramente in poche decine di euro, stare così così vuol dire magari trovare pulizia un po' scarsa o cibo scadente e ripetitivo. Un altro suggerimento utile sicuramente procurarsi una sim locale sia per il traffico dati sia per il traffico voce perché non tutte le strutture hanno una copertura wifi al di fuori dell'area della reception. Prima di parlarti dei documenti necessari per entrare in Egitto e sul Mar Rosso ti ricordo i miei contatti, il mio sito con le offerte viaggiaconantonia.com, il blog di viaggi viaggiaconantonia.it, la pagina facebook viaggiaconantonia e se sei pronto e carico contattami perché con me parti sereno e rilassato, mi occupo di tutto io. Per quanto riguarda i documenti, molto importante, si può andare sia con passaporto sia con carta di identità valida per l'espatrio con validità residua di almeno sei mesi. In caso viaggiate con carta di identità è importante portarsi anche due foto formato tessera per il rilascio del visto, è importante che non sia rinnovata con timbro qualora fosse cartacea oppure che non presenti rattoppi fatti con nastro adesivo e similari perché rischiate che venga negato l'ingresso. Anche i minori devono avere il proprio documento. Il visto non risulta obbligatorio per chi rimane sulla penisola del Sinai, per cui per fare un esempio se fai l'escursione al Cairo o a Luxor ti serve il visto. Se rimani a Sharm o a Marsalam e fai le escursioni previste nei dintorni non è necessario per permanenze fino a 14 notti. Da un punto di vista dell'emergenza sanitaria come sempre invito a controllare il sito della Farnesina viaggiare sicuri.it. Ad oggi chi ha il certificato di vaccinazione non deve sottoporsi ad alcun tampone come non devono sottoporsi al tampone i minori di 12 anni. Adesso ti saluto, se non sei ancora iscritto al mio canale fallo e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!